Musica Buongiorno a tutti ragazzi sono Cesare Presu e benvenuti su Brawl Stars Allora prima di dire qualsiasi cosa lollo mi spiace che non c'eri però altrimenti non riusciva più sto video e quindi abbiamo deciso direttamente di farlo nei due visto che tu non c'eri E quindi niente allora ma dai vabbè ma comunque allora questo Sì non so se voi lo sentirete perché stiamo giocando senza cuffie perché altrimenti non si sente lui che è dal telefono Con il telefono di mia madre l'ho chiamato che non ha di discord lui gioca dal telefono come tutti io gioca dal computer E quindi niente lui è il mio compagno Giacomo ci dovrebbe essere stato anche il Lorenzo detto lollo però non c'è Quindi senza indugio partiamo Ah spero spero non ho messo sopravvivenza E scelto Allora sopravvivenza Ah no spero mi sono Spravvivenza in due Sei pronto? Sperto Mi scelto in me non è buone Magari un potenzio boccio Che da un botto che non lo uso Boccio Let's get this party started Mettiramente c'è la livello 2 Oh pro Let's get this party started Chi sono se ci stagio delle coppie Tanti non sono 1147 Che potrebbe sembrare tanto meno Alta è poco Ok Cosa? Ah già cominciato Già come me lo faccio vedere Cazzo Musica aiutami tu Scooby Doo Doo Scooby Doo Doo Ti ho rubato la chi Ah meno gente Però l'intento che ho un po' della cassa Ok è vissuta Oh Ok Tranquillo sopravvivo Provo a sopravvivere Mi è mancato Hai visto per quanto mi è mancato? No Hai visto per quanto mi è mancato? No Oh c'è anche il primo C'è anche il secondo E il terzo C'è il tutti Ok 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 Si stanno chillando vicenda Secondo il finale Doh 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 Una Oh c'è il terzo Grandi! Siamo troppo forti, viva! Bella carino! Sei un po'? Si! Direi che è andata a meglio del previsto Intanto, letteralmente mi mancano... non so quello Mi mancano 11 coppie per arrivare a nuovo livello Intanto, pronto? Ok Si! Cosa? Che adesso mi portano a riuscire al grado... Perchè, letteralmente non capisco un po' che cacchio Ah, vuoi dire? Che grado sono? Sono al grado credo 3 con Porcio No, altra cassa sì! Ok, arrivo, arrivo, arrivo! Cazza! Si, si, sto pensando alle casse Sto pensando alle casse di qua Ah, arrivo, arrivo! Ok, killata! Insomma qua! Scusa, ma mi dici una roba a cosa stai? A cosa servono sti punti, però? Non ho capito Ok, spona, andiamo! Una tempesta semplicina Il potere di Fortnite è potente in questa modalità Oh, apra! Ok, è morta, è morta Vai, energeti! Jake! Controfinalo! No! Oh cazzo, ti rendi troppo! Oddio! Ok, tranquillo, ce la facciamo perchè sono già molto più lontano, quindi... No dai! Tempesta ti odio profondamente Vabbè ce la facciamo, ok? Oh, 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 oh! Mi sono morta, piacciape! Si, mi è morto! 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 Non dove andrei così all'estate! Vabbè, comunque più 7! Non mi lamento! Grado 4! Adesso... Facciamo che modalità, scusa, che con il testo del telefono non so perché non ti sento bene. Magari se ti metto qui sopra, alla scrivania più in alto, ok. Prova a provare che magari ti sento meglio. Pronto? Jack? Pronto? Mi senti? Prova a provare. Ok, qui ti capisco meglio, ti capisco meglio qua. Adesso come sentireppano lì, quindi non li vengono, grazie. Sì, eh? Spera, loro non ci sono più così. Oh cacchio, ho fatto cadere la calendula e il burro cacao. Scusa, cosa? Ma ci sei? Sì, ci sono. Sì, non sai come l'ho tenuta io pocio? In una cassa brawl, di quelle dappissime, aperta boom pocio. Si va. Dopo questo magari compriamo modalità che quelli che non lo conoscono, come me, un po' di tempo fa, almeno gli facciamo sorprendere diverse modalità. Che, a me questa qua la mettono molto divertente. Però solo quando si entra in più di uno. Il singolo non mi piace. Ok, presto, prendi la cassa, presto. No, piper, piper, piper. Bombardino il mago, maglino. Bombardino il mago, maglino. Ah, mi sto chiedendo. Eh, mi spiace, mi spiace. Non ti sono sento vicino. Mi sono fatto prendere dalla cassa mezzina. Ok, qua non mi dovrebbero trovare. Non mi ha trovato! Mi ha trovato! Gioco, mi puoi muovere, grazie. Ok, ci sono qualcuno solo. Ti odio, bombardino. Ok, allora, ma curativa. Si, si, amba. Ah, no, attento. Ok, bene. L'hai per la più schivata quell'attacco. Oh, no, non ci caschiamo. Oh, cacchio, troppo, troppo, troppo. Però, c'è, dai, l'hanno aggiunto un personaggio troppo. Vai, 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 vai. Dai, sette secondi, sei. Forse ce la puoi fare. Non fermarti, spero di... Sì, almeno sono disfunato. Devo scappare, stupid, perché sono immune. Troppo tardi. Siamo troppo... Siamo... Sponcio è troppo, tu capisci. Vabbè, non c'è più quattro coppia. La cosa vera, io stavo da quittà... Sì, raramente ti tolgono coppe. Idem, ne sono anch'io. Tanto cambiamo modalità. Ti vado a fare il film. Io vi ho vinto. Cosa? Aspetta, guardi i tuoi brawler. Consiglia, brawler. Ok, vediamo, abbiamo colto, abbiamo questo, abbiamo colto... Ah, no, no, non si incarica il computer. Ma fa che se mi saltare la registrazione, io mi incocchio un po' Come dire, build on a gamer. In questo video sto guardando troppi sui video. Sto prendendo il suo linguaggio. Computer in carca! Eh, non si è reale, ha detto via la registrazione. Ehm? Aspetta, non volevo, volevo solo vedere cosa facevo, scusa. Non volevo, consigliatelo. È il mio brawler troppo prefererli. Ok, ancora sta partita che rimetto questa qua, però dopo facciamo un'altra modalità che non è sempre questa, che non è sempre sopravvivenza, che almeno facciamo un po' vedere anche agli altri, ok? Ok, bene. Via! Ma non ho capito il brawler. Va bene, comunque va bene. Allora, abbiamo tutti e due un fu ca vita, però tu sei che c'è? Dai, che troppo fitte questo qua? Cassa in basso a destra per me. Arrivo! Dai, va bene, il gioco mi fa da scendere. La cosa brutta del computer è che il gioco ti fa per forza da solo la... No, 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 no! Bravoissimo. che mi dispi... cose di bozzi, pizza bonza incredibile lo saputo oh ma questo è troppo pro cioè... dai mi fai rimpiangere non aver Leon io lo voglio, lo voglio con tutta la mia vita ah, sfruttiamolo qua ah, ti ho sfilato ah, i testi ok, sono foc tu puoi essere prouder non vanno quando ti begano con i due insieme ok ok, non credo di poterla poter inserire di muot rose molto potenti con la modalità no se mettiamo un footbrawl se mettiamo un footbrawl allora scusami un footbrawl colt che in pratica il mio metodo con colt quella roba è che appena uno segna ci ritroviamo al centro appena inizia la partita uso subito la super perché almeno lì sono tutti ammassati ma quando la super solo però oh, c'è un altro colt c'è il colt più mero c'è il colt d'acqua ma dai sono troppo nati qua oh, piazza tiro tutto tiro tutto molto troppo ci penso io e la passo e la passo ok, cerchiamo nooo stavola abbiamo fatto una grande passaggio mi sai che io non faccio niente super mossa mi hanno fatto super grande super mossa mi odio profondamente mi ha sfondato il cuore magico ahah che lato faccio io prendo la palla certo te la passo no, l'ha presa in moto muoriti 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 oh, un po' di uno con cosa si chiama la un certo modo non mi piace faccio le ulti ok, tutti insieme no, me lo c'è il colt è troppo si grande va le vi usiamo anche l'eugenio ma ci muoio ma ci muoio non posso farci ma ci non basta guarda grazie al bugere dell'autista ho anche l'autista ha perduto l'ultica ma staglia molto combattuta c'è qualcuno che ci sta guardando che si è lost allora spero super carica sta calmo super carica ci muoio troppo qua vabbè mi hai passato a fare la lontana vabbè l'ho sfrecata chissà vediamo se ce l'ho ancora no 5 secondi a 5 secondi dannati a 5 dannati secondi che cazzo che cazzo che cazzo scusa cosa? ce l'avevo già detto non capisco eh sì non è andata molto bene forse è meglio usare qualcun altro che mi consigli? che scordi? che scordi? ok colt coltaggini strema colt è molto colto e prendiamoci la cazzo si forza meno tre coppie non è troppo però si continua meno tre coppie meno tre coppie arriviamo a meno trecenti a meno trenta a meno tre mila a meno trenta a meno trenta a meno trenta ma 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 Anche se non ho detto niente! Oh, il senso ha messo la parola mega tutti in santo! No, sono 5.530 in internet! Fai tanto! Dai, leoni, sasso, leoni, sasso! Allora, arriva la caballeria! Super! Oh, ho ucciso per dentro! Vai, vai! No! Vabbè, l'ho visto quanto mancava? Vabbè, comunque siamo nel zero! In ogni caso vinciamo! Però se arrivavano a 2 vincevamo direttamente! Vai, guarda io che faccio! Gli aspetto qua tutto fluviro-fluvole! Guarda, guarda qui li chiudiamo! No! No, sono morto! No! perchè ti stai per suicidare? in modo malo, troppo malo vabbè forza Mortis qua ci sono troppo morti ma proprio troppo cazzo ancora e non mi sono scolto ok una panna gioco mi stai facciando e adesso sprecato la super grazie al gioco ok so che sei qua emergenti provvedenti spento spenta lo ho tentato bene cazzo no lo faccio vabbè ancora 15 secondi perciò la parte dopo ce la possiamo fare porto una filanza sotto il gioco all'inizio proprio indietro ora super ora super 2 2 ok ok però che sfiga forse non è molto forte lei ha anche quella modalità 100 ok ok dai andiamo sei sicuro o spena io per sicurezza io per sicurezza è entrato qualcuno è entrato il G chi è chi è chi è chi è scusa me lo dici chi è è un tuo amico amico evviva aspetta che riesco assoluto che non sa chi suona ah è uscito no poverino non volevo mi spiace vabbè beh magari io mi cambia un brodo su servo voglio di cambiare un poverino nita tarà ma ne poi dopo non so se abbiamo tempo di fare una raffagema non è questa perchè siamo già 18 minuti e 20 secondi qualcosa stai ho detto tutto mi hanno chiuso mi hanno chiuso in mezzo 30 millisecondi ok quella lì è sprecata era super quella di troppo grande troppo grande cioè anche per questo che si è killed si mi ha aumentato no guarda no non volevo scusa ci ho fatto prendere vittà ecco la super vittà ok una super no il gioco non mi prendeva la super non mi prendeva la super il gioco ok però prendila io ti sto vicino ok va e mi sono impegnato con lui io l'ho impegnato mancava tutto vabbè l'orso pronto vorrei portare orso Orso Balù Scengo Orso Balù Scengo Bravo Orso Balù Orso Balù Scengo tu come tu non sto facendo scattato vai vai forza bravo vai ehi grazie bravo bravo ehi bravo giusto giusto ma da po 20 minuti giusto giusto e viva no sto per farlo ok allora ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video allora dico già non ci farò una serie farò qualche video ogni tanto sempre ed esclusivamente con i miei amici ovviamente vagirò poi ci starà lana poi il lollo poi la sua vida poi questo poi quello comunque spero che vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi con un divertimento di attivate la campanellina campanellina noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao 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 ciao